C'è stanno due donne insieme, una gli fa l'altra, oh, o sai che ho il sospetto che mio marito si fa un shampoo con intima di carinzia mio? Dice, che te dà questo sospetto? È il fatto che ultimamente gli viene una riga al centro dei capelli perfetta, dice, porca miseria, ma allora il mio, che si fa, il bidet con il coccolino? Dice, perché pensi questo? È perché invece di diventargli duro, gli è diventato morbido, morbido.